ciao a tutti bentornati sul mio canale benvenuti in questo nuovo video oggi parliamo degli angeli ribelli degli angeli caduti e andiamo così a vedere come mai gli angeli sono caduti cos'è successo tanti dicono ma che allora un dio buono un dio giusto non avrebbe dovuto mettere in tentazione gli angeli ma è una maniera molto riduttiva di vedere le cose sappiamo benissimo che perché possa esistere la vita ci deve essere il bene il male l'alto e il basso il buio e la luce senza buio luce senza bene o male senza alto e basso non c'è scelta non c'è vita c'è stasi questo deve essere chiaro e quello che fa dio è sempre buono quindi dio sapeva già che doveva esserci questo alto e basso di fatti gli angeli sono stati creati fuori dal tempo come dice anche sant'agostino infatti la creazione degli angeli viene posta per molti anche secondo giovanni damasceno del settimo secolo nonché sant'agostino quarto e quinto secolo fuori dal tempo e viene posta nel momento in cui dio separò la luce creò la luce quindi separò la luce dal buio e il nome angelo non sta a indicare per forza buono e viene raffigurato in alcune antichissime pergamene ma anche i mosaici eccetera l'angelo viene raffigurato metà azzurro metà rosso perché in sé angelo non vuol dire che sia buono questo è molto chiaro anche per sant'agostino non sono dei ma entità spirituali create da dio quindi sono neutre possono essere buone o possono essere cattive anche loro a secondo di varie cose tra cui la scelta anche se fondamentalmente sono state create per servire dio hanno una loro singolarità hanno una loro personalità un po come gli uomini sebbene non così liberi di decidere tutto e non con un libero arbitrio così libero come quello dell'uomo creato immagini e somiglianza di dio alvar partiamo e andiamo a vedere cosa è successo la caduta degli angeli ribelli sono chiamati nei testi antichi con molti nomi diversi uno dei nomi con cui sono chiamati gli angeli caduti sono grigori un altro dei nomi con cui sono chiamati è irin quindi noi troviamo gli angeli ribelli o i diavoli come li vogliamo chiamare oggi con questi nomi grigori i ring eccetera abbiamo visto nel libro di enoch e chi non l'avesse visto vi invito andare a vedere il video qua sul canale sul libro di enoch che una buona parte di questi angeli caduti di questi angeli ribelli erano i guardiani cioè gli angeli posti a guardia dei vari paniani pianeti dell'universo proprio per mantenere l'equilibrio tra la luce e il buio tra il bene e il male infatti nel libro di enoch si parla dei vigilanti e appunto gregori dal greco che roi significa vigilanti custodi guardiani quindi in questi tre sinonimi si raccoglie l'essenza di questi angeli è un termine utilizzato poi anche in altre opere letterarie giudaiche per indicare alcuni tipi di angeli come voi sapete nelle antiche opere giudaiche e soprattutto nella cabalà c'è tutta una definizione delle varie schiere angeliche e anche dei loro incarichi mentre noi sappiamo ora che ogni angelo nasce con un incarico non con un ruolo quindi non c'è un angelo superiore all'altro come gerarchia se no uno che può coordinare le schiere degli angeli come abbiamo visto in alcuni casi gli arcangi nel libro di enoch e nei giubilei due apocrifi oggi vengono chiamati dell'antico testamento ma in realtà il libro di enoch nei primi secoli era un libro canonico è rimasto canonico abbiamo visto nelle chiese etiopi il termine indica un gruppo di angeli caduti che si sarebbero accoppiati con donne mortali dando origine a una razza ibrida nota come neflim descritti come giganti nella genesi 6,1 6,4 e come eroi caduti nei secoli in ezechiele 32 27 allora i vigilanti per esempio nel libro di daniele sono anch'essi previsti il termine vigilante utilizzato nell'antico testamento solo nei capitoli quarto del libro di daniele 4 10 14 20 e indica un essere spirituale con funzione non di messaggero che hanno solitamente gli angeli divino ma bensì di interprete ed esecutore della volontà di dio i vigilanti sono anche detti santi per sottolineare la loro natura celeste invece nel libro di enoch come vengono visti questi vigilanti nel libro di enoch i guardiani sono angeli inviati in apparenza sulla terra semplicemente per sorvegliare la gente o mandati sugli altri pianeti per tenere in equilibrio e sorvegliare il creato si presero subito a nutrire concupiscenza per le donne umane che vedevano e sul incoraggiamento del loro capo un certo semi asa disartarono in massa quindi rivolsero lontano la faccia da dio per sposarsi e giacere con le donne umane i grigori erano il numero di circa 200 secondo queste tradizioni ebraiche ma sono ricordati solo i nomi dei loro capi di alcuni di quelli che sobbillarono di più la sommossa vediamo che il loro capo maggiore quello che che trainava un po tutti fu uracabaramil poi a chi bel tai miel ramuel daniel cazaziel ezechiel sarà chignal asel armes batral anane zavebe samavil ertel turel yomaiel azaziel noto anche come azazel questi sono i più diciamo così ribelli che hanno poi trascinato gli altri 200 angeli i figli nati da queste relazioni con le donne umane sono i nefilim i quali erano piuttosto prepotenti giganti selvaggi vengono addirittura definiti e misero so quadro la terra facendo parecchie angherie anche agli uomini che erano prediletti a dio e allora alcuni uomini proprio iniziarono a pregare il dio che gli aiutasse e l'invocazione a dio arrivò quindi dio mandò il diluvio universale per liberare la terra dai nefilim inviando però uriel quindi un altro angelo ad avvertire noè per alcuni uriel è il metatron la voce di dio cioè l'angelo che porta la volontà di dio in quanto se la volontà di dio fosse espressa direttamente incenerirebbe incenerirebbe chiunque anche entità forti anche spiriti forti come gli angeli e occasioni in altre occasioni invece agli angeli possono approcciarsi nelle vicinanze di dio e ascoltare direttamente la sua volontà quindi sappiamo che a questo punto è venuto il diluvio universale e ha spazzato l'umanità perversa corrotta assieme ai nefilim mentre gli angeli caduti non potevano essere uccisi così essendo esseri spirituali vennero confinati all'interno della terra dentro le rocce di una montagna sotto la montagna da qui nasce origina la nostra idea di inferno no sotto terra perché anche satana mandato sotto terra cioè perché però la storia raccontata nel libro di enoc la troviamo anche in genesi 6 1 4 che dice quando gli uomini cominciarono moltiplicarsi sulla terra e nacquero loro figli e figli di dio videro che le figlie gli uomini erano belle e ne presero alcune per mogli quante ne vollero allora il signore disse il mio spirito non resterà sempre nell'uomo perché egli è carne e la sua vita sarà di 120 anni c'erano sulla terra i giganti nefilim a quei tempi e anche dopo quando i figli di dio si univano alle figlie degli uomini e queste partorivano loro dei figli sono questi gli eroi dell'antichità uomini famosi e qua si fa un po di si crea un po di confusione perché loro i figli di dio erano gli uomini o erano gli angeli entrambi sono figli di dio gli angeli sono una prima creazione come servitori gli uomini sono creati a immagine e somiglianza di dio c'è una concreta e sicura differenza abbiamo sempre detto che solo all'uomo è stata offerta la destra del padre non certo agli angeli i primi scrittori cristiani seguendo l'interpretazione giudaica del tempo in tre per interpretarono questi figli di dio come gli angeli decaduti i padri della chiesa invece hanno corretto l'interpretazione con la discendenza di sette dei figli e dei uomini come disco descrivevano fin dai tempi di caino quindi anche qua si era creata questa confusione di certo di certo in molte tradizioni giudaiche si dice che gli angeli abitarono per un periodo prima degli uomini la terra finché dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza questo creò l'invidia di alcuni di questi angeli appunto che erano designati a proteggere la terra a proteggere gli uomini ma che ritenevano di essere orgogliosamente entità spirituali molto potenti mentre l'uomo era un infante dal punto di vista spirituale era piccolo poi aveva questa carne che lo rendeva basso proprio un verme di terra però questa carne serve a quel piccolo spirito umano creato immagine e somiglianza di dio per portere nel breve lasso della sua vita avere una grande evoluzione spirituale ed è quello che ci viene ricordato moltissime moltissime volte anche da gesù nei vangeli per chi crede ma anche da moltissimi altri illuminati della storia dell'umanità quindi questo è l'inizio degli angeli caduti ne parleremo ancora ci saranno degli approfondimenti da fare ma adesso vediamo anche i riferimenti agli angeli caduti nella letteratura esoterica in alcuni sistemi di credenza relative alla stregoneria e alla pratica wiccan i grigori sono esseri posti a custodia di portali che uniscono tra loro i mondi in questi sistemi essi sono visti come razza di esseri spirituali un insieme di divinità oppure come spiriti di quattro elementi essi sono spesso associati anche ai quattro punti cardinali e anche i sostizi agli equinozi così come a singole specifiche stelle del firmamento il libro di magia di charles leyland a radia o il vangelo delle streghe altrimenti detto l'autore narra il racconto dei figli di diana ovvero come nacquero le fate nel quale serisce che la dea diana creò i grandi spiriti delle stelle un'altra leggenda dal titolo come diana creò le stelle la pioggia leyland sostiene che diana dialogò con i padri del principio con le madri gli spiriti che furono prima del primo spirito in italia alcune credenze riguardanti le streghe sostenevano che i grigori ovvero i sorveglianti fossero un'antica razza ed è qui nascono anche le leggende sul fatto che i grigori fossero degli alieni venuti dallo spazio quelle loro navicelle per dare modo a questo essere umano poco formato di avere una genesi diversa quindi di rinascere come homo sapiens tutto ciò nasce sempre dal volere interpretare le cose del mondo come cose del mondo e non come cose spirituali e trascendenti al mondo fisico in realtà come abbiamo visto gli angeli caduti erano come gli altri angeli esseri spirituali che però volsero lontano lo sguardo da dio per invidia per gelosia per voler essere uguali a questi piccoli infanti spirituali che sono gli esseri umani i quali hanno due enormi poteri il potere di portare equilibrio o desequilibrio nella forza del creato infatti vediamo che il diavolo cerca di fare questo attraverso gli uomini e secondo di essere completamente libri di scegliere se andare verso dio o andare verso il male questa è la scelta che l'uomo può fare sempre e liberamente scrivetemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate degli angeli caduti dei grigori o i rin che dir si voglia mettete un like condividete il video nei vostri social iscrivetevi al canale che è un grande supporto per me ci vediamo un prossimo video ciao a tutti da armanno ciao